Fede, ho trovato uno strumento stranissimo che ci permette di trovare tantissimi tesori Bello, mi piacciono i tesori Steph, spiega, spiega Praticamente è una bussola che funziona come un metal detector Mi segna dove ci sono i vari tipi di minerali Sei pronta a provarlo? Sì, assolutamente Ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki E sono Steph, che si chiama Minecraft E oggi siamo qui su Minecraft per andare alla ricerca di minerali e pietre preziose Chiamiamole come vogliamo, ma andremo a farci un bel bottino, Steph Fede, ancora meglio, oggi siamo qui per diventare ricchi Praticamente noi abbiamo tre bussole Ogni bussola ci permette di trovare diversi minerali e materiali che appunto si trovano in caverna Abbiamo quella per trovare i minerali Abbiamo quella per trovare i metalli E abbiamo quella per trovare le gemme, ok? Il diamante Quindi il diamante Esatto, diciamolo Steph, diciamolo Partiamo dal Mineral Finder Che ci dobbiamo e permette Io voglio andare, cioè, mi devo diventare ricchi con i minerali Un passo alla volta, ovviamente con il diamante è più difficile Quindi dobbiamo partire dai minerali I minerali possono essere il carbone e diverse altre cose Sei pronta Fede? Sì, certo Dovremmo scavare parecchio Allora, come funziona? Praticamente noi ci dobbiamo muovere in giro E guardare quando la bussola si attiva Guardate proprio nell'hotbar Ad esempio, se io sto qui, diventa rosa Se mi sposto, non più Perché vuol dire che da qui, alla distanza massima in questo momento Ci deve essere un minerale Ok Quindi noi iniziamo a scavare Mi dà anche una direzione E mi butto con te, che devo fare? Voglio vedere anch'io che succede Continua a darmi in questa direzione Andando avanti, teoricamente, troveremo i nostri minerali Vediamo un pochettino se funziona la magia di Steph Fede? Ok Cosa abbiamo appena trovato? Il carbone Eccolo qua Guarda Ce lo segna perfetto Guardate la bussola in questo momento Ce lo segna super mega perfetto Lo andiamo a prendere E continua a segnarcene altro Perché infatti qua è pieno Zeppo Da questo punto preciso Me lo segna Ok Dice di andare verso il basso Mi piace come ti butti camicaggio Fai la strada piccola Non riesco a capire dov'è Perché ogni volta che mi muovo cambia la direzione È difficile forse questo Eh, credo che sia C'è la bussola anche per me Guarda Ecco perché Era perfettamente sotto di noi Stavo per dire che magari ti posso dare una mano Ma non è servito Ok Anche in questo caso Eccolo qua Ha funzionato alla grande Però adesso viene la parte difficile Prima di tutto voglio già dire una cosa Non appena finiamo di provare Tutte e tre le bussole Partirà una sfida Steph contro Fede Cinque minuti A chi trova il valore più alto Quindi tra diamanti, ferro Eccetera eccetera Ok Diamanti seratoste Inizia a prepararti Adesso vediamo se funziona Quella dei diamanti Si è accesa Metti una torcia Si è accesa Oh mio Dio Spostati, spostati, spostati Mi sei davanti Non posso minare Ok, fatto, fatto, fatto Ok, dice verso qui Allora Ho trovato del ferro Ma noi non stiamo cercando del ferro Stiamo cercando qualcosa Di ben più prezioso E dice che andando avanti di qui La dovremmo trovare Questo è lapis Lapsoli però Secondo te può segnare anche lapis? No, non credo Non lo so Cioè ha smesso di segnare? Sì, fare Quindi Quindi non segna solo No, 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 no Dice gemme Ha ragione Quindi possono essere anche smeraldo Però che ti ho pensato Dai troviamo il diamante O lo smeraldo Va benissimo Lapislazzoli Anche io avrei preferito Almeno lo smeraldo Qualcosa di un po' più Vado ancora a cercare Ci vediamo dopo Un po' più di valore Vai, vai Dai Dai Mettimi una torcia Perché lo voglio vedere Proprio bene sto diamante Ok Aspetta E dai, non farci aspettare Segna che qui Segna che da queste parti Allora Che scava sotto Vediamo Dove? Dove? Eccolo Dove? Oh, alleluia Ce l'abbiamo fatta Quindi sì Funziona anche per i diamanti Conferma Assoluta Assoluta Però dai Almeno spegnere la torcia Ha fatto un po' più di scena Sì, sì Era proprio molto scenografico Ammetto di fare una bella scena Siamo pronti alla sfida Fere Prontissimi Allora, spiego le regole Perché sono molto importanti Vai Partiamo con due picconi di ferro Entrambi 64 torce 32 bistecchine Le tre bussole E la spada di ferro Abbiamo un valore diverso Per ogni cosa Che si può minare in giro Il carbone vale 1 L'oro vale 3 Il ferro vale 2 Le lapis valgono 2 La redstone vale 2 E il diamante vale 10 Perché Eh, il diamante Questa sfida sarà basata Soprattutto su quello Come tattica Te la consiglio vivamente Tieni tutti e tre le bussole Nella hotbar Ma per chi mi hai preso Lo so già Perché in questo modo Mentre tu continui a scavare Puoi essere Diciamo avvisata Di altri minerali Stai dicendo che non sono Un bravo cercatore di oro E pietre No, no, no Volevo soltanto Diciamo darti un piccolo consiglio Ok, sei pronto Stef Fatti io al timer, su Quanto facciamo? 5 minuti avevi detto Soltanto? Rischiamo di non trovare Nienche un diamante 8 minuti 6 Per fare 10 6 7 7 3 2 Non valgono questi di carbone Dobbiamo scendere un po' più 3 2 1 Via Partiti 7 minuti Andiamo C'è lo scheletro che ti lascia Fattevamo ammazzarlo Prima di iniziare Non me ne frega nulla Me l'hai lasciato? Sì, sono seria Te lo lascio Che vigliacca Mi sta già facendo perdere tempo Ok, scendiamo di qui Allora Non si vede nulla Ditemi che non ci sono altri modi Ok, è caduto È caduto Ti stai beccando tutti i mostri Stef? Sì, me ne vado Ok, ferro Non è un posto sicuro quello Cos'è ferro? Di già? Ho già trovato del ferro Ma perché io ho trovato solo mob invece? Non lo so E io sto prendendo del carbone Un punto comunque vale Quindi diciamo che mi lo Ma che vuoi puntare sulla quantità Piuttosto che sulla qualità Sì, sì, sì Soprattutto perché l'inizio è stato traumatico Cioè ho girato in due posti diversi E c'erano 45 mob Io sono andata dritta Però ora mi è andata bene Quindi non mi posso lamentare Ovviamente si perde tutto Siamo d'accordo, sì Certo, certo Perché comunque perdi i minerali che hai preso Quindi fai zero Scendo qui Ma questo è del ferro per caso Eccolo, eccolo L'ho trovato Uno, due, tre Dammena ancora Uh, e ne ho trovato tanto E ne ho trovato tanto E io qua ne ho trovato tanto Ne ho già trovato altro Ne ho già trovato altro Ed è anche tanto Sto andando benissimo Deh Dimmi Mi si è accesa la bustola blu Già? Sì Allora non so cosa sia Perché ancora non l'ho trovato Però Aspetta Ogni tanto si accende Ogni tanto si spegne Quindi sicuramente Devi stare attenta Posizione strana Potrebbe essere molto in profondità Non lo so Perché segna dritto Eccolo Lo smeraldo Stai scherzando? Smeraldo Steph Lo smeraldo Quanto lo facciamo valere? Ora Nien che l'ho segnato Pensando Che c'è? Uno Lo smeraldo Speravo almeno due Dai Che cavolo Aspetta si è accesa di nuovo Mio Dio Sono in una zona ultima Ci stai scherzando? No Stai scherzando Mi stai trollando Altro smeraldo Comunque Lo smeraldo Mi devi decidere un valore Secondo me 8 Ok Ok Va bene Ma qui è pieno Che bello Continua ad accendersi Sì è una figata Sono sicuramente Un posto ottimo Vediamo Consolini guardate Non lo so Non lo so ma si è accesa Per un attimo Guardate Devo andare verso il basso Non dirmi che è il diamante Ti prego Allora Guardate Consolini Devo mettere luce Ma è acceso Ho un segno anche io Finalmente Finalmente ho anche io Una strada da percorrere Lapis Che tristezza Mi dispiace Lei trova gli smeraldi Io trovo i lapis Lapis vale 1 Non vale 2 Perché effettivamente Ne trovi talmente tanto Insieme Che vale tantissimo Ok Se lo dici tu va bene Dai possiamo cambiarli i valori A quanto siamo di minuti Siamo a 5 minuti Oh cavolo Bisogna muoversi A me qua continua ad accendersi Ma sembra che ci siano solo smeraldi Ti dico la verità Ma perché quanti smeraldi hai trovato Scusami Tantissimi Tipo Eh un bel po' Aspetta 4 Cosa Che ti devo dire Dimmi Oh mio dio Mi stanno attaccando Steph dai ti prego No Dai su Concentrati Dannati silverfish Non me li aspettavo Ok Devo stare attento Signori si è accesa L'ultima speranza di trovare il diamante Dato che siamo a 5 minuti e 50 Vai Steph E l'ultima speranza per Steph La redstone vale? La redstone vale? Sì 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 Mi ho trovato un sacco Ok 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 Redstone e lapis Penso che varranno uno Perché se ne trova tanto Smeraldo anche per Steph Ok me lo sono preso A questo punto Mi segna due direzioni Per trovare Però Sembra che ci sia qui del ferro Tipo Ah eccolo C'è l'avevo sopra la testa Che succede? Mi è caduta della gravella addosso Oh mamma mia che paura Ho trovato il diamante Eppure tanto Steph Eppure tanto Mi dispiace per te Spero che lo troverai in poco tempo Cavolo quanto ce n'è? Stai continuando a infierire Una fonte ricca Eh sì E poi per un attimo Che bello Mi ha fatto due direzioni la bussola Ti ha mai fatto due direzioni? Sì 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 Vuol dire che ci sono due cose vicine Che se tolì indietro trovi anche l'altra Ok perfetto Sono andata indietro Hai 20 secondi eh Vai ti prego Hai 20 secondi Quindi stai attenta Fai veloce Perché altrimenti te lo bruci L'altro diamantino No però mi vale Mi vale perché ce l'ho 9 8 7 No Steph Non puoi fare questo 5 4 3 2 1 Oh lo smeraldo è qui L'ho preso L'ho preso L'ho preso Va bene Va bene Aspetta però me ne segno un altro Stop Lo so è stop Però voglio vedere No 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 Che cosa vuoi vedere Fermati Va bene Dobbiamo capire chi ha vinto Allora ci rivediamo in superficie Steph No ma non ci ho voglia di tornare Io rimango qua a farmi i miei caipoli Non vuoi Non vuoi La prova tangibile No no penso di aver perso Quindi credo che sto meglio qui Capisci Perché almeno nel caso Sono già sotterrato dalla vergogna Capito Esatto esatto 39 di carbone 54 di ferro 30 lapis 1 smeraldo Questo è il mio bottino Questo oggi Cioè da dire che hai preso Molto carbone Molto ferro Io ne ho presi molti di meno Perché poi sono andata tutto sotto Lo so Lo so Quindi potresti pareggiare O forse superarmi Non credo Non credo Non credo Allora adesso dimmi quanto hai di ogni cosa Vai 19 di ferro Poi 7 di smeraldi Vabbè Poi 27 di redstone Ok E 6 diamanti Ok E carbone No non ne ho preso Quindi Allora Ricapitolando Per dimostrare che ho il diamante Sto facendo Ok Ok Zero carbone Zero oro E 19 di ferro Zero lapis 27 di redstone 6 diamanti E 7 smeraldi Sì Ok Allora I diamanti Sono 6 per 10 60 Poi abbiamo Un 8 per 7 Che fa 56 Che si soma 60 Che fa 116 19 per 2 Fa 38 Con 116 Con 116 Andiamo tipo a 154 Aspetta Aspetta Perché io ho fatto il calcolo così Un po' la leggerà perché pensavo di aver perso a priori Però Dice che non ci puoi arrivare di carbone Aspetta Comunque chi trova il diamante vince Basta Aspetta Allora Abbiamo 19 per 2 Non dirmi che vince No chi trova il diamante vince Allora Non mi piace sta cosa dei punteggi È ridicola Prima ti dico No scusami Allora Io mi sono concentrata su trovare le cose che realmente valgono Ma chi è che si ferma a raccogliere il carbone? Chi è lo sfigato? Solo tu lo puoi essere Ma Io non ho fatto il punti dal carbone Io ho fatto Ok Ho fatto 108 punti Solo di ferro E io ferro ne ho trovato poco Tu hai fatto 181 in totale Io ho fatto 108 punti di ferro Quindi è lì che Steph ha recuperato In ogni caso Ti voglio dire Quanto avevo fatto io Quanto hai fatto tu? Perché infatti io non te l'avevo detto prima la somma Con 39 di carbone E tutto il ferro Il mondo eccetera eccetera Io ho fatto 185 Ok Sai quanto ha fatto la cara a ferro? 181 l'hai detto? Esatto Ma io ho vinto perché ho il diamante Siamo quasi pari Vince chi trova la cosa migliore Io mi sono concentrata sull'essere ricchi Tu mi hai detto diventiamo ricchi Tu cosa vuoi fare? Il carbone Puoi fare Cosa puoi fare? Venderlo a quelli che hanno i caminetti Aprire una stazione ferroviaria Utilizzare il carbone per alimentare i treni Aprire il commercio E diventare più ricca di chi ha i diamanti Non è vero Con il diamante puoi fare un sacco di cose migliori Guarda ti posso concedere il pareggio È il massimo che ti posso concedere Perché 4 di differenza Spigato È il fatto che ho trovato un solo smeraldo E 0 diamanti Sì posso accettare il pareggio Cioè io mi sono riempita di pietre preziose E vinci tu col carbone Guarda la prossima volta mi concentro a raccogliere il carbone Ma dimmi te Perché se ne succede Lasciateci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao